Salve ragazzi! E' uscito il videopassetto di un nuovo personaggio Si chiama Wilbur E gli vivrà avventure incredibili, entusiasmanti, fantasmagoriche, magiche, meravigliose Che mi porteranno nel mondo di Wilbur Fai un salto nella fantasia con troppi guai per Wilbur Finalmente è uscito! Sta pubblicità... Fa la solita fregatura E poi è uscito... E' uscito da dove? Un salto